Cari amici, prendiamo un'altra espressione che ogni volta che leggo mi stupisce, mi stupisce oltre misura, al numero 72 di Amoris Laetitia. Il sacramento è un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi perché la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale per il tramite del segno sacramentale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Queste parole mi confondono. Ogni coppia di sposi la rappresentazione reale del legame di Cristo con la Chiesa. Capite quale dono avete ricevuto voi sposi. Voi sapete leggere in me sacerdote il dono straordinario dell'essere sacerdote, ma io potrei vivere semplicemente come uomo al di là dell'essere sacerdote. Pensate a tutte le volte che non esprimo la mia vita sacerdotale, così anche voi. Potete vivere bellissimo come una bella coppia, maschio e femmine, sposo e sposo, papà e mamma, bellissimi, ma quando nascondete il mistero non si può leggere il mistero perché non si vede, non è tenuto ravvivato, non c'è un legame e siete rappresentazione reale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Grazie.